Professione. Ministro dello sviluppo economico con la Lega, ministro I esteri col PD, quindi professione è stare al governo prima di tutto. Io falegname, barista, però mi piacerebbe fare anche il turista, però anche il fotografo, non so, vediamo. Cosa pensi del PD? Per me è la morte nera. Prima di tutto, contrariamente al PD di prima, che era quello della terrazza a Capalbio, adesso il PD è sempre quello di prima. Ma siamo cambiati noi, che mi piace? Capalbio, prima di tutto. Da 0 a 10, date un voto a questo governo. 0, 10 più più, perché prima di tutto non è facile per noi dei 5 Stelle risollevare il paese dopo il disastro del governo precedente dei 5 Stelle. Come definireste il risultato del referendum sul taglio dei parlamentari? Successo assoluto, campioni del mondo! Ma io credo che l'importante adesso è far fuori ste campioni del mondo, proprio farli fuori. Ti piace Draghi? Un genio del male. Ma c'è ancora qualcosa su cui siete d'accordo? Sì, videocrimi è inutile. Dimmi il tuo sogno nel cassetto. Diventare Mario Draghi? Il mio sogno nel cassetto è sempre stato quello di costruirlo, il cassetto, ma non mi è mai venuto, però ora rimane un sogno, diciamo, fuori dal cassetto. Dimmi il più grave errore che ha fatto il tuo collega nella vita. Ha svenduto il movimento per la poltrona. Ha perso la poltrona per fare un cassetto e manco gli è venuto sto cassetto. Personaggio storico di riferimento? Che Guevara. Forlani. Come vedi il Movimento 5 Stelle tra dieci anni? Ma io spero in un ritorno alle origini duri e puri, non come adesso che sembriamo l'udeo di Mastella. Prima di tutto è vero, a tratti lo sembriamo, ma il mio obiettivo politico è esserlo, non sembrarlo. Che vi avevo detto, no? Comunque ora Mastella fa il sindaco di Benevento e sputaci sopra. E io ci sputo. Puh! Eh, ha sputato? Sì. Ma su di me o su Mastella? Trova le differenze, oddio, sono due gocce d'acqua. Chi è il vero nemico degli italiani oggi? La mancanza di ideali. Davide Casaleggio. No, scusa, metti la mancanza di ideali anch'io, scrivi la mancanza di ideali. Secondo te nel Movimento adesso c'è un rischio scissione? Dipende da quanto è stronzo Dibba. Dipende da quanto è stronzo Di Maio. Ma riusciremo mai a vedervi di nuovo insieme? Dipende da quanto è stronzo Grillo.